Reconfort, Espoir, Apocalipse 21 e 4, Verset Biblic, Guirison, Renouveau, Inspirant, Fui. Caro Padre Celeste. Mentre veniamo davanti a te, siamo umiliati dalla promessa rivelata in Apocalisse 21 e 4, dove ci assicuri che un giorno asciugherai ogni lacrima dai nostri occhi, e non ci sarà più morte, dolore, pianto o dolore. Le tue parole ci portano conforto e speranza in mezzo alle sfide della vita. Signore, nei nostri momenti di tristezza e dolore, ricordaci il tuo incrollabile amore e compassione. Donaci la forza di sopportare le difficoltà con pazienza e perseveranza, sapendo che hai il piano ultimo di restaurazione per noi. Aiutaci ad appoggiarci a te nei nostri momenti di debolezza, trovando rifugio nella tua grazia indefettibile. Di fronte alla morte, possiamo noi trovare certezza nella tua promessa di vita eterna. Donaci il coraggio di affrontare l'ignoto con fede, sapendo che la vittoria finale sulla morte è già stata ottenuta attraverso il tuo figlio, Gesù. Guidaci a cercare il tuo regno in tutto ciò che facciamo, sforzandoci di essere strumenti del tuo amore e della tua trasformazione. Possiamo noi vivere alla luce della tua promessa, sapendo che la tua verità è una fonte di forza e di scopo nella nostra vita. Grazie, Signore, per la rassicurazione e l'ispirazione che si trovano nella tua parola. Mentre eleviamo le nostre preghiere a te, ci aggrappiamo alla speranza di Apocalisse 21 e 4, credendo nel tuo piano divino di restaurazione e aspettando con impazienza il giorno in cui le lacrime, la tristezza e il dolore non ci saranno più. Nel nome di tuo figlio, Gesù Cristo, noi preghiamo. Amen. Prego che siate benedetti. Grazie per il tempo dedicato. Per favore, mi piace, iscriviti e condividi.